Ciao, sono Stefano Reali, sono l'autore e il regista della commedia Appuntamenti al Buio, che è una riflessione di oggi sulla impossibilità per le coppie, per le coppie anche felici, di riuscire a poter salvare il loro rapporto senza correre dei grossi rischi. L'eccesso di comunicazione, l'eccesso di ricorso alla tecnologia, a Whatsapp, a internet, alla localizzazione, che ci permette di essere sempre raggiungibili, sempre disponibili e non avere mai un momento di intimità con noi stessi, piuttosto che con le persone a cui vogliamo bene, ci mette in realtà la merced di una serie di disturbatori, di molestatori. Per cui il problema vero è che spesso essere troppo connessi sempre con il mondo, ci impedisce di essere connessi con noi stessi e con le persone che amiamo. No, posso mettere un'altra cosa? Tanto attacchi, no? La protagonista della commedia sarà Michela Andreozzi. Vi aspettiamo alla Sala Umberto a maggio 2016.